Ciao a tutti, questo piccolo tutorial è per farvi capire come poter usare al meglio Padlet che è una semplice applicazione che io sto utilizzando spesso in questo periodo proviamo a fare la registrazione insieme, vediamo se è abbastanza veloce andiamo nel sito di Padlet, basta inserire Padlet e vi ritrovate qui andiamo su registrati, io adesso cercherò di fare un account e registrarmi con un account Google e provo a usare l'account della finestra sull'albero che è diverso da quello che utilizzo solitamente quindi sto facendo la registrazione vera e propria adesso vediamo la formula basica che è quella che è gratis, scelgo questa oggi la connessione è veramente lenta, immagino che un sacco di persone stiano utilizzando questi sistemi vediamo un po' se si velocizza eccoci qui, dovremo adesso essere nella pagina dove puoi creare un Padlet allora qui ci sono varie cose, c'è il Padlet a parete, canvan, serie, griglie e via dicendo io adesso userò questo timeline, lo scelgo e lo impostiamo, ne ho fatto uno proprio stamattina speriamo insomma che sia un po' più veloce perché sennò devo bloccare in continuazione solitamente è molto più veloce, infatti immagino che questa risorsa in questi giorni sia super utilizzata allora mi porta qui in questa timeline, ovviamente questa va modificata perché mi dice questo è un titolo che da lui, l'immagine la sceglie lui, quindi andiamo qui dove c'è la rotellina per modificare ad esempio titolo della timeline, mettiamo attività di italiano italiano, ok, descrizione una favola africana per lavorare insieme ad esempio icona, qui possiamo scegliere una serie di icone andiamo ad esempio, vediamo qui se ce n'è qualcuna che ci può far venire in mente l'italiano, mettiamo questo ok torniamo indietro, nel frattempo che io modifico, vedete che qui sta modificando tutto poi, qui ecco, questo è importante e il link che ci servirà dopo questo qua, quando dovremo condividere con i nostri alunni wallpaper, qui scegliamo l'immagine che vogliamo ad esempio, voglio scegliere blackboard, è un'immagine semplice qui poi ci sono insomma i vari caratteri che possiamo modificare come vogliamo noi attribuzione, qui possiamo permettere a tutti i commenti o come so che non può commentare nessuno qui possiamo decidere se possono mettere se il lavoro piace o meno lasciamo tutto così e per ora andiamo a salvare e questa è l'impostazione generale su come deve essere fatto il nostro Padlet ci dovremmo essere aspettiamo un po', ok chiudiamo e adesso, a questo momento, si tratta di inserire i contenuti allora, vedete che qui c'è una linea una timeline, quindi clicchiamo qui su questo pulsante e iniziamo a inserire, allora ad esempio qui voglio inserire subito cosa fare cosa possiamo dire? qui possiamo dare le indicazioni su quello che gli alunni dovranno fare io vado a prendermi dal mio desktop adesso qui esco un attimo gli appunti che mi ero segnata qui ecco, cosa fare? mi prendo copia e incolla questo vado di nuovo su Tablet, qui e inserisco che cosa inserisco? qui incolla legge attentamente la favola africana che trovi qui accanto e poi segui le indicazioni che ti vengono date questa è la prima cosa che si potrà visualizzare ad esempio, decido di dare questo colore ok continuiamo allora, aggiungiamo quindi qui adesso che cosa faccio? io voglio proprio impostare l'attività carico che cosa? voglio caricare un file chiuditi vado a pick file e mi fa vedere tutto il materiale che ho nel mio desktop andiamo a cercare vediamo se lo trovo allora, desktop ci sono dovrei aver fatto le mie lezioni divisione qui c'è tutto il mallopo di roba dove siamo? attività italiano ok e qui voglio inserire questa immagine questa è una immagine perché l'ho caricato sotto formato immagine quindi una foto nel frattempo eccolo qua ecco allora e qui mettiamo il titolo favola africana io posso scrivere qui che cosa devono fare i bambini leggi con attenzione adesso qui dentro io se io ci clicco sopra avrò la favola che i bambini devono leggere questo è un proprio un esempio ok adesso da qui esco che cosa voglio fare poi? aggiungo ancora un altro un altro contenuto lo carico sempre da qui pic file mi dovrebbe aprire ecco il file di prima attività di italiano e qui c'è un foglio in formato word dove c'è scritto il tipo di lavoro che i bambini dovranno fare io poi questo se voglio una volta che l'avrà caricato posso chiamarlo ad esempio consegna attività proposte e via dicendo vediamo un po' se è veloce ecco niente bisogna avere un po' di pazienza in questi giorni perché ok dopo un po' di pazienza ha caricato l'attività possiamo mettere qui il titolo consegna ad esempio consegna 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 e qui possiamo scriverci insomma quello che vogliamo e alla fine io qui ho aggiunto un altro ho messo un link ecco così avete gli esempi anche oltre a inserire le nostre cose possiamo mettere anche il link ad esempio ho trovato il link della stessa favola non me lo fa fare copia no aiuto incolla vediamo se me lo ha messo no niente è quello di prima prima l'ho fatto adesso non me lo fa più fare qui torniamo indietro copia alla fine incolla salva vediamo se me lo fa velocemente qui c'è un link che porta direttamente un video di youtube che ci consente di far vedere i bambini direttamente da qui dentro il video ok quindi cosa succede io qui potrei mettere anche il titolo video sulla favola del colibri che è la favola che io prima ho riportato da questa parte e qui avrei finito il lavoro qui io comunque posso vedere esempio qui dentro ho insistemato vedete i bambini li devo aver letto con attenzione fai un breve riassunto inserendo anche le tue considerazioni su quanto hai compreso e riflettendo anche sulla situazione che stai vivendo in questa situazione cosa possiamo fare noi per evitare ad esempio che il virus si diffonda trasforma la favola in discorso indiretto riscrivendola sul quaderno qui abbiamo scritto un piccolo ricordando che cosa è il discorso indiretto e che cosa è indiretto poi prova a diventare una favola sarda simile a questa scrivila sul quaderno e poi illustrala con delle vigliette in sequenza analizza il testo originario e cerca nomi comuni verbi e aggettivi si rendono in colonne distinte sul quaderno poi fa l'anese grammaticale della prima fase del racconto e stessa cosa qui se i bambini cliccano qui possono vedere direttamente il video da tutto quanto allora una volta che abbiamo finito il nostro padlet io ho bisogno di condividerlo con i bambini quindi vado qui su condivisione e io faccio qui copy link quando schiaccio qui me l'ha praticamente copiato se io voglio ricordare il link ad esempio adesso mi metto qui nel foglio che avevo visto prima faccio in questo modo e qui ho il link disponibile che posso poi copiare incollare mettere dove lo posso mettere su add model lo posso mettere caricare nel registro elettronico insomma lo posso dare ai bambini in qualsiasi modo i bambini una volta che avranno il link ci cliccheranno e si troveranno direttamente all'interno della pagina che avete creato per ora è tutto spero che il video possa esservi servito buon lavoro e arrivederci